Nel Golfo di Policastro gli operatori balneari si riorganizzano partendo dal riassetto della sezione locale del sindacato di categoria, il Sib. La sede da Policastro sarà istituita a Sapri e il nuovo referente è Pierino Giannetti, noto operatore portuale della città della Spigolatrice. In questi giorni ha ricevuto il responsabile provinciale Alfonso Amoroso che si è confrontato con gli operatori presenti sui problemi sui quali battersi a tutela del comparto balneare. Sul tavolo di discussione è finita la questione dell'erosione marina che sta creando seri danni alle strutture e riducendo in maniera considerevole i tratti di spiaggia dati in concessione. L'altro grave problema riguarda proprio le concessioni. Secondo le nuove disposizioni europee le stesse devono andare all'asta, ciò vuol dire che i balneari non potranno più fare progetti a lunga scadenza. Per il momento l'entrata in vigore è in rinviata al 2020, di fatti è stata chiesta una proroga fino a quella data che è stata però contestata da alcuni ricorsi che ritengono illegittimo tale slittamento. A dicembre si conoscerà la decisione della giustizia europea. Se i ricorsi verranno accolti le concessioni dovranno essere messe all'asta con gravi ripercussioni sull'imprenditoria balneare italiana. Intanto alcuni parlamentari si stanno battendo per evitare che sul nostro territorio cambino le regole sulle concessioni delle spiange. Il responsabile provinciale del Sib ha incontrato in questi giorni anche gli operatori di Marina di Camerota che hanno posto in evidenza anche i problemi che sta causando al turismo balneare la chiusura della Cilentana. Una questione quest'ultima che sarà discussa con il funzionario della provincia di Salerno che sta seguendo l'iter legato alla messa in sicurezza della strada a scorrimento veloce tra Agropoli e Prignano, il dottor Ranesi. L'incontro si terrà mercoledì prossimo a Salerno presso la sede della Camera di Commercio. In quella sede sarà affrontata anche la questione erosione. Grazie. Grazie.